Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi andiamo a fare un esperimento, proveremo a giocare senza regina o comunque la sacrifichiamo per un pezzo leggero come cavallo oppure alfiere, quindi partiamo ad handicap e vediamo cosa riesce a fare The Joker oggi. Prima di iniziare vi ricordo a tutti di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok eccoci qui, lanciamo le partite a 5 più 0, sono esperimenti che ogni streamer fa, voglio dire Nakamura addirittura è riuscito ad arrivare a 2500 mi hanno detto senza la regina, allora proviamo a sacrificarla subito, peccato che non ha giocato cavallo F6, invece potrebbe giocare così, va bene, gioco alfiere C4, minaccio il matto e il barbiere e qui gli do la regina appunto sul cavallo. Doberman 58, vediamo un po', lui più aumenta il tempo più diventa forte a quanto pare, oddio però devo stare già molto attento perché alfiere C5 è molto pericolosa. E il bello è che mi sta scrivendo abbandona, perché lui pensa che io abbia sbagliato, quindi pensa che io qui abbia proprio sbagliato mossa diciamo, in realtà io l'ho fatto di proposito. Vabbè comunque non importa, proviamo a resistere il più possibile ragazzi, mi ha detto anche abbandona, ma se dovesse essere sconfitto non si sa. Vediamo un po' cosa succede dai, arrocco, mettiamo ora al sicuro, lui gioca H6, benissimo, io posso provare a giocare, ma sì, voglio giocare tranquillo. D3, devo trovare una sistemazione ai pezzi, più che altro. Ok, lui arrocca, certo potrei anche provare a giocare la mossa C4, però forse non funzionerebbe. Cioè il tutto per impedire D5 perché se apri il gioco sono finito, no? Quindi direi di giocare al fiere in E3, non è facile giocare senza regina, servono proprio delle strategie. Non so Nakamura come giochi, lui gioca a quei sistemi tipo Ippopotamo. Nakamura è il maestro dell'Ippopotamo. Ok, lui qui ha catturato un attacco a raggi X, se ne accorge subito. Allora sviluppiamo i pezzi, ora ho tutti i pezzi attivi. Qui va bene, catturo, sulla cattura spingo. Lui gioca al fiere G4, purtroppo mi sa che questo è bravo comunque. Proviamo a giocare una mossa di questo tipo. B4 io, lui non sta facendo niente, ha la regina in più, è molto preciso, sta calmo, tranquillo. Quindi non sta assolutamente facendo niente. Vediamo se questo potrebbe rivelarsi un errore. Voglio giocare al fiere C4. Non ci credo. Vedete, vedete ragazzi, mi ha scritto anche abbandona. Perché devo abbandonare? Perché devo abbandonare? Questo è un 1516 sull'Icess. Abbiamo recuperato la partita. Sta forse meglio ancora lui, forse, non lo so. Vediamo un po'. Sì, sicuramente, credo. Vabbè, qui mi sta regalando un pedone. Mi regala un pedone, lo accettiamo. Qui la regina è inchiodata, quindi non può fare assolutamente niente. Che cosa succede a giocare contro una regina in meno contro un 1500? Eh, succede questo. Succede questo. Che lui perde, insomma. Ok, qui devo stare attento. Vabbè, dai, giochiamo così. Certo, lui potrebbe catturare. Vabbè, qui la regina è inchiodata. No, però io ho anche il cavallo. In realtà, vabbè, qui devo catturare per forza. Uh, questo è interessante perché minaccio cavallo G6. Esatto. Bene così, dai. Ho un pedone in meno. Comunque, va bene. Prima avevo regina per cavallo. Stava molto meglio lui. Stava, tra l'altro, semplificando la posizione. E qui la andiamo a vincere. Ah, perfetto. Mi sarebbe da scrivere ora. Vi vorrei dire cosa hai detto. Comunque, esperimento ben riuscito. Chiaramente proviamo. Che peccato, lui insiste, ma mi piace quando insistono così. Doberman58, vai. Andiamo avanti. Ora, sacrificarla con i pezzi neri è un po' un problema. Ma noi andiamo avanti. Ok, ok. Allora, la voglio sacrificare sempre. Però devo stare attento. Non è che gli posso concedere cavallo per G7. Sennò guadagna la regina, la torre, guadagna tutto e poi posso abbandonare. Invece così devo, con calma, con calma, con molta calma. Come la sacrifichiamo qua? Ma, non lo so. È perché sta diventando un po' un problema, diciamo. Perché più pezzi cambio e peggio è. Proviamo a fare cose strane. Allora, cavallo D8. Cavallo D8, pedone C6. Va bene, qui catturo. Ok. Eh, ragazzi, sta diventando complicato sacrificare la regina qua. Facciamo cavallo E6, allora. Cavallo E6. Attacco la donna. Vabbè, dai, la darò. Comunque la do via. Tra poco. Purtroppo sono anche messo male con lo sviluppo. Però, tanto, è un esperimento. L'abbiamo già battuto una volta. Quindi magari se perdo è anche giusto così, diciamo. Cioè, mi sta bene perdere. Eccolo lì. Vai. Donna B6. Questo manco se ne accorge. State a vedere. No, scherzo. Non lo so. Se ne accorge? Giocherà al Fierre 3. Giocherà al Fierre 3. Ok, ok. Allora se ne è accorto. Ha detto, ora puoi abbandonare. Bene, 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 bene. Se ne è accorto. Vediamo cosa succede da qua. Qui ho una posizione veramente pessima. Diciamo che questa posizione è peggio di prima. Molto peggio rispetto a prima. E... E niente. Lui qui mi attacca. Lui mi attacca. Potrei giocare così. Ma non mi convince. Quindi giochiamo semplicemente C6. Purtroppo ho una posizione molto, molto, molto chiusa. Il che non mi piace. Perché per poter dare via alla regina. Sono rimasto indietro con lo sviluppo. Quindi qui ora iniziamo a sviluppare. Purtroppo qui ho sbagliato. Ma forse ancora deve fare questa, questa. Donna Per, questa. Oddio. No, questa volta la vedo molto difficile ragazzi. Speriamo che non se ne accorga. Magari non se ne accorge. E gli gioco al Fier F6. Ci sta pensando. You can resign now. L'ha detto. Ora puoi abbandonare. Ops, se ne ha accorto. Mi sa che ha ragione lui. Ma non è che mette il programmino. Si arrabbiano e mettono il programmino. Scherzo. No, no. Non l'ha fatto infatti. Non l'ha messo perché altrimenti avrebbe catturato. Oh, meno male. Meno male. Ma questa? Non funziona purtroppo. Perché non funziona? Perché c'è questa. Che peccato. Dai, dai. Facciamo così. Attacco la donna. Che peccato. Cavallo E4 mi piaceva. Devo dire la verità. Mi piaceva tanto. Lui ci pensa. Lui ci pensa. Qui sarà sicuramente nervoso. Però, insomma, facciamo il tutto per divertirci. Non è che stiamo prendendo in giro l'avversario. Non sono né il primo né l'ultimo che fa questi esperimenti. Voglio dire. So che questi video di solito piacciono tanto. Tanto comunque. Voglio dire. Si vede, no? Se un video piace. Voi mettete mi piace al video. A quelli che supportano il canale. Quelli che apprezzano i contenuti. Poi, chiaramente, ogni tot arriva qualcuno e dice. Ma cosa stai facendo? Eccetera, eccetera. Cosa sto facendo? Sto giocando a scacchi. Cosa devo fare? Ecco. Qui forse ho sbagliato, ragazzi. Devo stare più attento. Sì, qui ho sbagliato. Purtroppo. Facciamo così. Ah, vabbè. Questa. Eh, questa ci può stare. Boh, non so cosa dire. Sì. Ah, no, no, no. Facciamo così. Perché voleva fare cavallo in G5 lui. Comunque io veramente non so come fare qua. Sono messo molto male. Proviamo a giocare questa. Vedete, sono indietro con lo sviluppo. Che devo fare? Ok, questa è una mossa un po' inutile, però. Aspetta. Per il momento. Ah, ok. Minaccio a quella. Scusate, se lui fa questa, io questa. Lui ritorna qua. Sì. Bisogna stare attento ai taticismi. Bisogna stare molto attenti. Ok, vediamo cosa succede ora. Ah, giocata per davvero? Wow. Però così... Perdo un pezzo. A meno che non faccia questa. Catturo, cattura. Non mi piace, non mi piace assolutamente. Ho i pezzi che non giocano. Se ne accorgerà, giocherà cavallo F6. Ok, speriamo non la giochi. Speriamo ritorni indietro. Però questo comunque mi sembra... Intelligente. Eh, infatti... La giocata. Ok. Bene. E qui, niente. Cosa vi devo dire? Catturiamo. No, è impossibile. Qui abbandono tra poche mosse. Ma comunque è un esperimento. Qui facciamo questa. Ok, questa. Questa. Fammi scappare. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Fammi scappare. Perfetto. Perfetto. Benissimo così. Ci siamo. Se recupero questa. Mamma mia, se recupero questa. Ok. Benissimo. Quindi ora facciamo così. Difendo il pedone. Certo, ha praticamente tre pedoni percettivi. Passati. No, due. Questo non è passato. Perché c'è il pedone in E6 che lo contrasta. Comunque ha un minuto. Ha un minuto. Mi piace la posizione. Dai, dai. Ora qui se mi da scacco io scappo. Sposto l'alfiere da qualche parte. Collego le torri. Ho alfiere e cavallo per la donna. Perché no? Mi piace la posizione. Oh, perfetto. Vai. Lui verrà qui. Vabbè, qui. Attacchiamo. Tra l'altro, guardate. Posso provare già a impostare un attacco. Mi sa che il tipo qui non ci ha capito molto. Non ci ha capito molto. 37, 36. Mi dispiace per lui, effettivamente. Perché mi ha detto abbandona. Ops, pezzo in presa però qui. Non va bene sta cosa. Ok. Come facciamo ora? Vabbè, difendo. Come facciamo? Difendo questo. Ok. E ora vengo qua. Lui qui cattura. Io gli do scacco magari. State a vedere. No, non cattura. Peccato. Però sto molto meglio. Anzi, già posso fare questa. Già posso fare questa, questa, cavallo. Poi catturo. Però, diciamo che non mi piace. Voglio andare avanti così. Non voglio dare materiale. Ovviamente, quando abbiamo i pezzi in meno, non è che dobbiamo cambiarli. Casomai dobbiamo coordinarli. Cercare di coordinare i pezzi per cercare di dare scacco matto. No, quanto mi dispiace per questo avversario. Sarà meglio cambiare avversario? Forse, non lo so. Se insiste io gioco. Tranquillo, eh. No. Questo mi segnala, poi mi banna, no. Non so, non sta dicendo niente. Non sta mandando la rivincita. Io intanto sono arrivato a 1500. Dovrei essere contento. Ma è giusto un esperimento, ragazzi. Andiamo avanti, vai. L'ultima. No, di nuovo con i pezzi neri. Che peccato. Vai. Con i pezzi neri. Sacrifichiamo qui diretto, diretto. Boom. A posto. Eh, catturato anche di pedone. Mi aiuta, forse. Va bene così. Ok. Sviluppiamo i pezzi. Se questo mi sembra anche molto convinto. Bene. Qui facciamo. Che facciamo? Non lo so. Non ne ho idea. Lui vuole spingere. Dobbiamo fare... Attenzione. Dobbiamo fare. Vengo qua. Sì, se spingo sono nei guai. Quindi, chiaramente, quando si è in vantaggio si dovrebbe aprire il gioco, cambiare pezzi, eccetera. Cosa che i miei avversari non stanno facendo per il momento. Perché qui, appunto, pedone D4 è molto, molto logica come mossa F4. Anche, potrebbe essere, logica. Vanno preparate, sì, però, insomma. Ok. Questa è strana, invece. Mi ha dato l'alfiere Camposcuro. Ora ho la coppia degli alfieri. Sono forti questi due alfieri, quindi... Secondo me lui non ce la fa. Eh, non ce la fanno, non ce la fanno. Comunque c'è da fare i complimenti all'Icess. Perché veramente gioco a 5 più 0, 3 più 0 e molto, molto, raramente incontro dei cheater. Invece, su chess.com è pieno. Come ve la spiegate voi sta cosa? Non so se torna anche a voi questo fatto. Fatemi sapere. L'Icess sembra essere più immune rispetto a chess.com per quanto riguarda il cheating. Ok, qui ci siamo presi le case scure. Molto bene. Dai, proviamo ad andare all'attacco. Addirittura andiamo all'attacco. Questa è una bella mossa. Questa è carina. Questa sì. Però io voglio riprendere di cavallo. Quindi vediamo se cattura. Perfetto. Guardate come controllo le spinte, eh. Quindi abbiamo alfiere per donna. Grosso vantaggio per lui. Eppure, piano piano, sto cercando di fare qualcosina. Ora, se catturo questo, sono a posto. Guardate qui che bello. Ta! Salta il pedone. Magari mi dà proprio la torre. Sono contento. Vince è lo stesso. Se mi dà la torre, credo. Però, niente. Non vuole. Io ritorno qua. Cavallo D4. Posso ritornare con il cavallo in, qua, scusate, in E6. Torre H3 per me non ha nessun senso. Quindi non so se si, come dire, si innervosiscono. Non lo so. Però giocano a scacchi in maniera strana. So solo questo. Vabbè, qui a Rocco arriverà a cavallo qui, immagino. Bene. E devo difendere. Su questa spingo. Andiamo a rafforzare l'alfiere. Cioè, volevo dire, su F4 catturo con il cavallo in F4. Ok. Qui niente di speciale. Facciamo questa. Attacco la torre. E devo aumentare la protezione, qua. Sull'alfiere, con il pedone. Ora, questo cavallo al limite può darmi scacco. E infatti, e infatti, mi dà proprio scacco. Vengo qui. Devo stare attento. Ad esempio, cavallo G6, catturo, pedone per. No, niente. Oh no. E ora mi entra qui di donna. Se ho sbagliato qualcosa. Evidentemente ho sbagliato qualcosina. Ops. Sottovalutato. Crollano tutti i pedoni. Eh sì, eh. Eccolo lì. Se ne sta accorgendo, ma giusto così, ragazzi. Cioè, non è che le posso vincere tutte. Va bene così, insomma. Però lui mi dà scacco. No. Ah, questa è carina. Questa è carina. Però mi difendo. Meno male che ho cavallo e alfiere. Posso difendermi, diciamo. Ok. Ok. Qui, diamo noi alla donna ora. Però lui può fare così. No, fa così. Beh, allora qui. Ancora. Attacco. A parte che qui c'è un pedone in presa. Secondo me sarebbe il caso di catturarlo. Perché comunque questo pedone è importante. Ok, sì. Sì, sì, sì. Direi di catturare. Catturo. Qui spingo. Speriamo apra. Così arriva torre B8. Guadagno la donna. No. Ok, ritorniamo qui. Sì, devo coordinare bene i miei pezzi. Questo cavallo è fortissimo. Questo cavallo è fortissimo. Ok, ho capito cosa vuole fare. Vuole catturare il pedone in A3. Non glielo posso permettere. Cavallo lì. Attacchiamo la donna oppure il cavallo. Sì, dai il cavallo. Attacco il cavallo a 1 minuto e 30. Questa è la partita più difficile. Ma ho qui quasi quasi. Però no, no. Non mi va, ragazzi. Devo fare attenzione comunque. Stanno per arrivare di quelle mosse. Ok. Inchiodiamo. Certo è difficile giocare senza regina. Ma non scherziamo proprio. Complicato. 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 Qui attacco. Vabbè, ma questa. Cioè, fatemi capire. Questa. Dove va lui con la donna? Nessuna parte. Perdo un pezzo. Può catturare qua. Volendo. Vabbè, catturo. Attacco la donna. Buono, buono. Abbiamo guadagnato un pezzo. Dai. Dai che questa si stava facendo difficile. Guardate che si fa ora. Si cattura. Si cattura con scacco. Questa. Vediamo qua. Proviamo a entrare. È persa. Teoricamente è persa. Purtroppo. Scacco. Mi sa che viene indietro. No. Wow. Benissimo. Benissimo. Ok. Scacco. Non ci credo, ragazzi. Non ci posso credere. Non ragionano. Scacco di scoperta. Non ci posso credere. 3 su 3. Senza regina. Chi l'avrebbe mai detto? No. Vabbè. 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 Non ho parole. Ok. Iniziamo a spingere allora. Semplice, semplice. Vai, vai. Andiamo avanti. Questa. Ma anche così. È difesa. Questa è da abbandono. Vabbè. Dai. Questa è da abbandono. Non c'è niente da fare. 3 su 3. Cosa sono gli scacchi? Questi sono gli scacchi. Giochi senza regina e vinci. Fai come Capablanca. Uno sconosciuto va da Capablanca, che lo trova in biblioteca, casualmente, pensa quindi di aver incontrato una persona casuale, e gli chiede, permette una partita di scacchi? Capablanca dice, sì, certo, possiamo giocare. E allora Capablanca toglie la regina, prende e inizia senza regina, e lui dice, l'avversario dice, ma cosa fai? Mi prendi in giro? Giochi senza regina? Capablanca dice, sì, perché altrimenti avrei giocato con la regina se tu sapevi, se tu mi conoscevi, se tu sai chi sono io. Purtroppo tu non mi conosci, e quindi io gioco senza regina, una cosa del genere. Comunque, e chiaramente Capablanca vinse, no? Sì, un principiante parte con la regina in più contro un maestro pedde. Questo era il video di oggi, fatemi sapere, grazie a tutti per la visione, vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima! Ciao! 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 Ciao!